Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, il studio Roberto Di Giacomo. Sulla FEPILI segnaliamo code a causa della viabilità esterna che non riceve allo svincolo di San Miniato Basso e allo svincolo di La Strassigna. Dal 27 maggio in FEPILI al via i lavori di riqualificazione del tratto compreso tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. La statale 64 povertane chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. A Firenze in via San Domenico all'altezza del civico 93 fino al 9 giugno è previsto un ristruggimento di careggiate per lavori di riqualificazione. Vi ricordo che in corso uno sciopero del trasporto aereo di 24 ore che sta coinvolgendo anche il personale degli scali di Firenze e Pisa. Vi invitiamo al rispetto dei limiti di velocità. Morsi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!